Il 3 luglio scorso collassa parte del ghiacciaio della Marmolada con conseguenze tragiche. La terza edizione della Caravana dei Ghiacciai di Lega Ambiente con il Comitato Glaciologico Italiano passerà anche da qui per, tra le altre cose, studiare come meglio adattarsi alla crisi climatica. Organizziamo la Caravana dei Ghiacciai perché attraverso i ghiacciai è possibile conoscere l'effetto e toccare concretamente gli effetti dei cambiamenti climatici e ci aiuta a capire anche l'ecosistema montano, un ecosistema che anche secondo l'IPCC è importante da monitorare e da osservare per costruire nuove strategie di adattamento. Da quando il Comitato Glaciologico ha cominciato a misurare i ghiacciai, quindi nel 1895, è cambiato lo stile di comportamento dei ghiacciai. Le fronti si sono ritirate, le masse glaciali si sono ridotte di volume. Considerando solo l'arco alpino si è persa più del 50% dell'area totale coperta dai ghiacciai nelle Alpi. Alle condizioni attuali il futuro dei ghiacciai è abbastanza certo, cioè si va verso una scomparsa. Quest'anno sulle Alpi è stato registrato un dato senza precedenti. A fine luglio lo zero termico è stato individuato a 5184 metri e con temperature superiori allo zero il ghiaccio fonde. Per capire meglio il problema, invece di chiamarli ghiacciai, chiamiamoli serbatoi di acqua dolce che alimentano laghi e fiumi. La loro scomparsa ha conseguenze dirette in tutti i settori, dall'industria all'alimentazione.